Cofcommercio Il padiglione è felicissimo di avere la presenza di Cofcommercio per tutti i sei mesi e che Cofcommercio quindi da padiglione imposti quell'azione di appoggio all'internazionalizzazione delle sue imprese che secondo noi è uno dei punti veramente salienti dell'attività proprio del padiglione Italia. Questa firma deve essere letta così, con questo grande interesse che il mondo delle imprese, in modo particolare del commercio, del turismo e dei servizi hanno verso Expo 2015. Il nostro mondo ci ha sempre creduto e continua a crederci. E poi voglio aggiungere un'altra considerazione, noi crediamo molto nella centralità del padiglione Italia, crediamo molto nel impegno che ha messo la Presidente Diana Bracco, con grande determinazione, con grande coraggio e con grande sapienza, perché il padiglione Italia sarà certamente un punto di riferimento per l'esposizione universale. Il padiglione Italia si pone due obiettivi, uno è quello della internazionalizzazione delle imprese, soprattutto delle nostre filiere, delle medie e piccole e il secondo quello di implementare un turismo diffuso, una scoperta dei luoghi che diventi strutturale. Abbiamo iniziato con E015, abbiamo proseguito col catalogo fornitore e oggi la firma del protocollo. Il padiglione Italia per noi è una tappa importante nei sei mesi dell'Expo e sarà affidata ad Aice per tutti i contatti internazionali che il nostro mondo deve avere con la business community del mondo intero. Il fatto di avere un punto di riferimento al padiglione Italia per Aice è estremamente importante, perché rappresentando un settore di commercio internazionale con un numero abbastanza importante di aziende, questo significa poter avere dei contatti con tutte le delegazioni estere che arriveranno in visita a Expo 2015. Affiancheremo allo spazio nel padiglione Italia il nostro palazzo Bovara che diventerà la casa per la business community internazionale, quindi un'attività dentro le mura dell'Expo e soprattutto fuori le mura dell'Expo sotto il brand ConfCommercio.